Sì? Ah, Harry! No, no, vengo subito in ufficio e porto con me quei documenti. Ho capito, ma almeno lasciami bere una tazza di caffè in Santa Pace. D'accordo, arrivo. Eh, buongiorno, signora Baxi, accomodimi. Oggi sono un po' in ritardo. Vuole che le prepari la colazione? No, la ringrazio. Ho appena bevuto una tazza di caffè. In piedi, come al solito. Sì, come al solito. Viene qualcuno a prenderla? No, vado in ufficio con la mia macchina, arrivederla. E si diverta a fare le pulizie. Arrivederla, signor Derry. Le hanno sparato? Sì, sì. È ferito? No, no, stia tranquillo, non mi hanno colpito, grazie. Cosa? Ma chi può essere stato? Sì, vengo subito. Billy! Hanno tentato di uccidere Derrick. Derrick? Sì, chiama subito la scientifica. Era davanti a casa sua. Laggiù c'era un'automobile. Una utilitaria di colore nero. Non sa dirti altro. Hai visto la targa? Come avrei potuto vederla, stando dietro quel muretto? Già, è vero. Stefan, non lo trovi un po' strano? Il fatto che non mi abbiano colpito, eh? L'hai pensato anche tu, vero? Sì, l'ho pensato anch'io. Erano due passi. Il fatto che non mi abbiano colpito, eh? E' vero? Grazie a tutti. Grazie a tutti.